Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi! A Risolto Giallo! Risolto Giallo, yes! Ma non solo Risolto Giallo, Risolto Giallo con doppia funzione Perché oggi abbiamo l'autore e abbiamo l'editore Questa non era ancora successa e doveva venire Mariana Marenghi a farlo succedere Mariana, due anni che ti aspettiamo Con lei, con lei, Francesco Paolo Reste, tre nomi e un libro Che si intitola In un mare senza blu Benvenuti alla Marenghi perché finalmente Come ti chiamo Reste Francesco? Francesco va benissimo E all'autore perché viene da Napoli Fino qui Grazie infinite e anzitutto Complimenti per questo libro Complimenti a te che l'hai scritto Complimenti a te che l'hai sgamato E te lo sei pubblicato Partiamo dall'inizissimo Perdonami Partiamo da qua Mariana è la cotitolare Di una delle librerie più carine, interessanti E sfiziose di Milano Che si chiama Il Covo della Ladra e che ha una specifica destinazione d'uso Domanda Come si arriva a fare la libraia e di quel genere come si arriva dalla libraia a fare l'editore? Grazie Alessia, domanda difficile ti direi Allora, si arriva a fare la libraia perché sei figlio d'arte Nel senso che mio nonno aveva una libreria Una libreria giuridica a Como Eh già E io sono cresciuta nel retro di quella libreria E quando cresci con quel profumo nel naso Mi spiace ma non te lo togli di dosso E quindi sin da quando ero piccina mi sono sempre detta Io prima o poi aprirò una libreria È un sogno che poi ho dimenticato perché poi ho fatto altro nella vita Ho intrapreso altre strade lavorative Sino a che è arrivato il momento e il desiderio di cambiare lavoro E mi sono detta Questo è il momento Questo è il momento di aprire una libreria e di risentire quel profumo E devo dire che ogni volta che entro al covo La mattina presto quando è ancora tutto chiuso Sentire quel profumo mi riporta a quando ero piccolina Dopo il liceo, dopo le medie E andavo a passare i miei pomeriggi da nonno Insomma la Madeleine tua C'ha la copertina Però tu non vendi Giuffre e Tribuna Cosa vendi? Noi siamo specializzati in giallo, noir e thriller E poi abbiamo anche una sezione dedicata alla fantastica Cioè alla fantascienza, al fantasy, al weird, all'horror Insomma tutte le narrazioni più stranianti che ci piacciono tanto E la motivazione per cui siamo una libreria specializzata Deriva da una doppia motivazione È doppia La prima è che il nostro è un quartiere molto particolare E storicamente è lì che la ligera milanese Diciamo la mala milanese Ha preso le mosse Mariana siamo a Milano All News Diciamo dove sei Esatto Qual è il tv migliore di questa per dircelo Esatto E poi l'altra cosa Diccelo però Dici dove sei Dove è la libreria? Siamo in via Padova Eccola Siamo in via Padova E poi la seconda è che fino a qualche tempo fa Accanto alla nostra libreria Girato l'angolo su via Padova C'era un locale che si chiamava appunto Ligera I cui due titolari avevano una casa editrice Che si occupava di crime Ha cambiato gestione purtroppo Quindi i due titolari con cui passavamo e trascorrevamo le serate al locale Non ci sono più Però l'idea di farla specializzata è nata proprio anche chiacchierando con loro Che a loro volta avevano una casa editrice Per cui ci siamo un po' trainati a vicenda E poi è il mio genere preferito Per cui non è che posso fare No ci va tanto lontano Lavoro con ciò che mi piace Uno fa quello che mi piace E da qui all'editore? E dall'editore al nostro? Tu lo sapevi Alessia Tu lo sapevi Alessia Che fin dall'inizio della stampa Quindi sin dal 1700 I primi editori erano librai E allora noi abbiamo preso questa tradizione Questa eredità E ci siamo detti Forse è il caso Perché i dobloni nascono prima di tutto Con una collana Che è quella più antica Se così vogliamo dire Della nostra giovanissima casa editrice Però Una collana Dedicata al giallo vintage Perché ci siamo rese conto Da libraie Che tantissimi autori Anche e soprattutto italiani Stavano sparendo Letteralmente Cioè non riuscivamo più Ad avere A scaffale I loro titoli E allora ci siamo chiesti Come mai E ci siamo chiesti Come mai La risposta ora Non ve la posso dire Qui in diretta Perché è volgarissima Però è in separata sede Perché non posso dirla Però Però Abbiamo deciso di intraprendere questa strada Quindi il nostro Incipit Se così vogliamo dire Di storia È stato con i gialli classici I gialli classici Come quelli di Augusto De Angelis Di Matilde Serau Quindi autori Che ci riportano All'origine di un genere Che però Attenzione Riescono ancora A parlare A dirci Ad essere contemporanei Però io sto parlando tantissimo Sì ma infatti Mi devi arrivare a lui Arrivami a Francesco Lui Prima di Francesco In realtà abbiamo Deciso di inaugurare La collana Degli enigmi Che è quindi La collana dedicata Alla narrativa contemporanea Con un'altra bravissima autrice La nostra amica Sonia Che è la mitica Sonia Sacrato Che un giorno Ha bussato alla nostra porta E mi ha detto Io vorrei fare una cosa Vorrei fare un progetto con voi Perché Vabbè Adesso Racconto velocemente Per non rubare spazio Sonia Ha scritto un bellissimo romanzo Che ha come Tema principale La violenza sulle donne E visto che noi abbiamo Più volte collaborato Con Progetto Aisha Che si occupa Di violenza sulle donne Di aiuto Alle donne Vittime di violenza Lei ci ha detto Io vorrei fare un libro con voi Per poter donare I diritti E allora Bene E lei è stato un po' Il traino Di questa nuova collana Che ci ha portato Anche a Francesco Eccolo qua In effetti Un po' di violenza sulle donne Anche in questo romanzo C'è Ma non è il tema principale Però io partirei proprio da quello Perché un po' fa da trigger No? La scaturigine di tante storie Di tante dimensioni È lì I tuoi protagonisti Come si chiamano? Ciro Mario Michele Anche se uno dei protagonisti Poi subirà un cambiamento D'identità Lungo la storia Per cui Si aggiungerà un quarto nome E E sì Nelle loro vite È fondamentale Il ruolo delle donne E delle madri Anche se Sulle madri Ci sarebbe da aprire Un capitolo a parte Perché Quelle che comincio a raccontare All'inizio della storia Forse sono Inadatte Loro malgrado Al ruolo E incidono pesantemente Sulle scelte di vita Dei loro figli Poi interverranno altre donne Magari Anche loro Madri In maniera diversa Che Faranno un po' Da scialuppa Di salvataggio A questa esistenza C'è una madre Che è proprio agli antipodi Con Le madri Dei protagonisti Una che Esce completamente Dal ruolo Di donna Subordinata Al sistema Intanto Dove avviene La tua La storia Ambientata Nella periferia Della provincia E Un luogo Al margine Del margine Fondamentalmente Io la immagino Come ambientata Attore annunziata E quindi In una cittadina Della provincia Di Napoli La immagino Ambientata nel quartiere Popolare Di Torra annunziata Che è un quartiere Maledetto Per quanto riguarda Il disagio Sociale Ed economico In cui Vivono i suoi abitanti Però al tempo stesso Un quartiere Che vive A ridosso Di una paesaggistica Incredibile Molte delle scene Che racconto Si svolgono In una piazza O comunque Spazio Che ha Il vesuvio Alle spalle E capri Dall'altra parte Del mare Un mare Che tra l'altro È senza blu Perché è bellissimo È una cornice Paesaggistica Ripeto Fantastica Però spesso Per alcuni periodi Non balneabile Per alcuni anni È di una bellezza Inutile Che Non dà In alcun modo Ristoro Consolazione Salvezza La storia comincia Che i tuoi tre Protagonisti Sono molto giovani Sì Vuole essere È un romanzo Di formazione È un romanzo Che segue E accompagna La crescita Di questi ragazzi Per provare A mettere Il lettore Nelle condizioni Di conoscerli davvero Prima di quelli Che saranno poi I momenti di svolta Nella loro vita Quelli Che magari poi Si trasformano In atti giudiziari O momenti di cronaca E quindi Quando poi Vengono in un modo Nell'altro conosciuti Dal grande pubblico O comunque Da chi poi Esprimerà Un giudizio Morale O penale Sulle loro azioni Infatti loro A differenza Da ciò di cui Normalmente sentiamo Non diventeranno Branco Cioè non diventeranno Un gruppo criminale Ma resteranno In quella fase Di amicizia Che tu definisci In maniera Molto creativa Plastilina Che è molto Immaginifica Però nella loro vita Ad un certo punto C'è un evento Dillo se vuoi Se no lo lasciamo Così molto generico Che crea Un po' L'incrocio Da cui il punto di svolta E le loro tre strade Si divideranno C'è questo incendio Nelle prime pagine Possiamo tranquillamente Raccontarlo C'è un incendio Che determina Una disgrazia Forte All'interno Del gruppo E quindi Da lì Le loro vite Subiranno Un'accelerazione O comunque Un cambiamento Fondamentale Però Per assurdo Sarà anche Un momento Di fusione Rispetto al quale Questo aver vissuto Una disgrazia Comune Questo aver vissuto Un evento Così importante In un momento In cui si è così scoperti E così Vulnerabili Rispetto alla vita Come appunto L'età dell'infanzia La giovane età Finirà per essere Comunque Un momento Di incontro Un collante Che resterà Comunque Sempre ad unire Questi due ragazzi Due Visto che uno Si perderà un po' Per strada E quindi Questo momento Sarà Un momento Di divergenza Ma Un momento Comune Che resterà Sempre E comunque E quindi Da lì poi Si riparte Nella valutazione Di ogni Di ogni singolo gesto Di ogni singolo atto Comunque Ci sarà sempre L'altro Anche quando La vita I gruppi I clan Tutto ciò Che incontreranno Tenderà A riversarsi Nelle loro vite Ti abbandono un attimo Torno da Mariana Quando hai letto Le bozze Di questo romanzo Che cosa Ti ha Convinto Che cosa Ti ha colpito E qual è stato Il momento In cui hai detto Sì Lo pubblico Allora Domanda difficile Per due motivi Il primo Sì esatto Oggi fai domande difficili Alessia Allora La cosa Che mi ha Convinto L'elemento Fondamentale Che mi ha Convinto Che questo Poteva essere Un romanzo In grado Di funzionare Risiede principalmente Nello stile Di scrittura Lo stile Di Francesco È uno stile Poetico Ma crudo Quindi Non ci lascia Niente Immaginare Ci racconta tutto Ma ce lo racconta Dal punto di vista Dei sentimenti Dei personaggi Non delle loro azioni E questo è il secondo Elemento fondamentale Noi siamo abituati A romanzi Che ci Fanno vedere Le azioni Ma non ci raccontano mai I pensieri E le emozioni Dei protagonisti Che le compiono Invece Francesco Ha trovato la chiave giusta Per fare entrambe le cose Nel modo migliore E gran parte Di questo lavoro Viene svolto Dalla sua lingua Da come usa Costruisce le frasi Usa e pesa le parole Che è molto Molto Importante E anche molto Stilisticamente suo È difficile trovare Una narrazione Analoga Tra i libri Pubblicati oggi È comunque Un libro Che si legge Piacevolmente Scorrevolmente Non ha quei momenti Di distasi Di blocco Di fatica Che invece Tante altre letture Che noi facciamo Per i nostri motivi Ciascuna ai propri Incontra Questo è un libro Che non dico Si legge sotto l'ombrellone Perché comunque Esige una maggiore attenzione Però comunque Ha questa caratteristica Francesco Te l'avranno già detto Immagino Parte E con questo Conforte al lettore Parte con Dei temi Che sono Per certi versi Dei deja vu Ti ritrovi In qualche cosa Che hai già visto Magari Nei film Vi ricorderete sicuramente The sleepers E cose del genere Cioè questa Infanzia Che poi diventa Un'adolescenza Con un momento Di svolta Bellissima citazione Non ci eravamo Messi d'accordo Poi però Cambia completamente Registro Cambia completamente Registro Anche perché Splitta Tra i due mondi Dei due Protagonisti Superstiti Che vanno A insediarsi E a incastonarsi Nelle due Classiche Devianze Adolescenziali Qui prima Tu hai incontrato Il nostro amico Mauro Grimoldi Che in un'altra puntata È venuto a raccontarci Dal punto di vista Dello psicologo forense Perché e come Per quali motivi Gli adolescenti Delincono Tu non l'hai letto Non lo conoscevi Però l'hai scritto Hai scelto Questo lo possiamo dire Lo spaccio Di stupefacenti Da una parte E l'uso La dipendenza Dagli stupefacenti E la prostituzione Dall'altro Due mondi Tremendi Però sei riuscito A infondere Poesia In questo Domanda Nasce da un tuo Vissuto Che so Di volontariato O di professore Sono un ispettore Di polizia Quindi Non me l'aveva detto La Marenghi E non c'è neanche Scritto Ma sì Perché non è Una storia Raccontata Da un poliziotto Nel tanto meno Un polizisco Però nel comunicato stampa Ma io non ho letto Il comunicato E' chiaro che L'esperienza personale Di poliziotto E di figlio di maestra Quindi Due prospettive importanti Sulla vita Dei ragazzi Mi dà la possibilità Di guardare Di frugare Di perquisire queste vite E di conoscerle Ce l'hai il decreto? Dipende per un 41 Anche senza Non c'è mandato Lui non l'avrebbe mai scritto E' un motivo di necessità E' un'urgenza Però Una volta dentro Il verbale mi limita tanto In quello che posso raccontare Un giudizio Tu lo sai bene Per essere giusto Ha bisogno di Della conoscenza completa Dei fatti delle persone A me interessava Per questo Cerco di arrivare Di raccontarlo Attraverso le emozioni Dei personaggi Che poi Voglio che diventino Le emozioni del lettore Vorrei che la conoscenza Di queste vite Avvenisse Attraverso Una sorta di Transferte emotivo Ritrovarsi Nello stanzino Con Michele Ritrovarsi Con la necessità Nella roulotte Oppure con la necessità Di mangiare Una bustina di zucchero In più Per sopravvivere A quella giornata Una serie di cose Rispetto alle quali Poi La valutazione Degli errori Imperdonabili Che commettono I protagonisti Magari Può essere Leggermente Più compassionevole E poi soprattutto Che ci può spingere Come società Come comunità A rivedere Quali devono essere I nostri momenti Di impatto Su queste vite Che sicuramente Come l'ha detto Anche Mauro Grimolli Non può essere Semplicemente Impattarle Con Con un'ordinanza Di custodia O comunque Con tutti quegli atti Che sono già Successivi Ai momenti In cui potremmo O dovremmo Anzi dovremmo Come società Andare a intercettare E provare a fare qualcosa Per prevenire davvero Che la devianza Diventi tale Noi invece Abbiamo una serie Di intercettori Che sono Tardivi Ci danno la possibilità Soltanto di Riparare Al torto Di legge Ma La giustizia Ha bisogno di altro In effetti E qui mi rivolgo Alla mamma Più che Alla lettrice O alla libraia In effetti Quello che Che manca E urla In tutta la sua essenza Nel libro di Francesco Sono le agenzie sociali Non c'è la scuola Non c'è il quartiere Anzi La scuola È uno dei primi elementi Di discriminazione Che incita Alla Alla violenza Se così vogliamo dire Alla necessità Di difendersi da soli Senza un referente Adulto Che possa aiutare Questi ragazzi Che già non ne hanno Di referenti E nella scuola Non continuano A non trovarli Non li trovano Tant'è vero Che poi Si hanno Soltanto Tra loro Forse c'è la mamma Di Mario Che rimane Accudente Per quanto possa Salvo poi La cosa assurda Che i gesti Di umanità Arrivano da una bestia Come leone Arrivano È un cane Arrivano da un'altra Disgraziata Come la parrucchiera Loro I due protagonisti Che nelle loro vite Sono dei disgraziati Diventano invece Salvezza Nella vita dell'altro Sono situazioni Per le quali Ecco Lì era anche un modo Questo tipo di descrizione Per sottolineare Quanto davvero basti poco Non c'è bisogno Di avere posizioni Di potere O posizioni di forza Per essere Salvezza Nella vita degli altri Basta compiere Piccoli gesti Come anche quello Che può fare una bestia Come leone Che semplicemente Dà per una notte Il suo calore bestiale A Ciro Permettendogli di superare Il momento di difficoltà Il momento di criticità Io so che abbiamo Pochissimo tempo Tu hai pochissimo tempo Io starei qua un'ora Vorrei chiedervi Qualcosa che Vi chiederanno In tutte le interviste C'è un seguito Vero? Ci piacerebbe Qualche spin off Se possiamo Dire Qualche spin off Di altri personaggi Sì Di altri personaggi Ci sono Tanti personaggi Che sono Minori Solo per una questione Di Di spazio Però sono tutte vite Che secondo me Così come quelle Dei protagonisti Meritano di Di avere Un po' di luce In più Che magari Provi a Rischiavare Quel noir In cui affogano Li ho sgamati Li ho sgamati Sti due Associazioni a delinquere Anche se sono solo due Io faccio la terza Questi stanno preparando La serie tv Ecco Stanno preparando La sceneggiatura Un tocchelin Per volta L'hai detto tu però L'ho detto io Ma guarda Io metto qua Un euro E ne vinco cento Eh sì E perché per forza C'è una tendenza Non facciamo nomi Ma comunque C'è una tendenza A cui piace molto Nisi Da a cui piace molto Questo genere Di ambientazioni E Qui c'è più spessore Però Qui c'è più ciccia Diciamo che Francesco La racconta per com'è Per come la conosce bene Per come la conosce male E forse per lui E' anche taumaturgico Eh questo ruolo Io mi dissocio Perché conosco Produttori e sceneggiatori Di quella serie lì Ed sono bravissimi Anzi saluto Angelo Petrella Che è una persona incredibile Sono bravissimi Perché hanno avuto Un successo clamoroso Soprattutto Sul pubblico Meno agganciabile Che sono i coetanei Dei protagonisti Certamente Eppure Le figlie delle mie amiche Attaccate allo schermo Non solo per la bellezza Dei protagonisti Ok quindi Sgamati 1 e 2 Cosa volete Lasciare Al pubblico Di Risolto Giallo Io Ringrazio Alessia Per Per avermi dato La possibilità Di parlare Perfino a Milano Di Torre Annunziata E di E di personaggi Che però Credo che Nella loro resilienza Siano Universali Sicuramente Non confinati Semplicemente In quella Periferia Della Periferia Sono persone Che lottano Per Per sopravvivere Alla tempesta Che stavolta La vita Ci manda contro E questa È una lotta Universale Io come sempre Esorto Alla lettura Di qualsiasi libro Ma soprattutto Quello di Francesco Per ovvi motivi Per ovvi interessi Diciamo E io Ho un motto In libreria Che è poi anche Il motto Della casa editrice Che leggere rende liberi Che sembra una sciocchezza Però soprattutto In libri come quello Di Francesco La libertà Che ci dà Questa lettura È una libertà Di orizzonte È il potersi Immedesimare In psicologie E in pensieri E in emozioni Altri Diverse dalle nostre Che arricchiscono Il nostro orizzonte E che ci aiutano Ad ampliarlo un pochino Anche per essere Meno rigidi Meno Preconcettuosi Insomma Ci aiuta un pochino A liberarci Dalle catene Che involontariamente Abbiamo tutti Bello preconcettosi È la lettura È la lettura Ha questo potere Taumaturgico Cari delle spettatrici Leggere rende leggere Anche nei confronti di Cosette pesanti Della vita Come queste Arrivederci a tutti Buona giornata Quanto c'è di giallo Quanto c'è di giallo Nella vostra vita E quanto c'è di noir Nella vostra vita milanese Scopritelo con noi Ha risolto giallo Ciao c'è di giallo Ciao c'è di giallo Ciao c'è di giallo Ciao c'è di giallo